no salvo a tutti i ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi sono qui per presentarvi un tweak che si chiama share widget praticamente con l'avvento di iOS 7 i widget per ipad sono comodamente scomparsi e quindi con questo tweak potrete ripristinare i tweak che c'erano con iOS 6 ovvero quelli di condivisione tipo come twitter e facebook questa applicazione è completamente personalizzabile per qualsiasi dispositivo quindi anche su iphone si possono mettere nuovi widget di condivisione ed è completamente personalizzabile anche dalle impostazioni widget condivisione possiamo aggiungere anche questi altri due tangent web e sina web io non ce l'ho installato quindi non me li attiva poi possiamo scegliere se attivare su facebook o solo twitter tutti e due essi visualizzano la lock screen adesso abbiamo tutte e due mano la lock screen adesso non ci faranno più ecco qua spero di essere stato utile con questo brevissimo video ciao alla prossima grazie a tutti